Casino, casino ragazzi, ha sediato l'ospedale, siamo 20.000 a Torino, 20.000, è una cosa impressionante, vanno i furbi sti qua, ma poi ci rimettono la vita, Torino 20.000 persone in piazza, è impressionante, stiamo blindando l'ospedale e è stato Alex spinto a spostare il corteo di qua perché Alex spinto ha le palle, ha veramente le palle, l'ha dimostrato questa sera, c'è il mondo, il mondo, guardate la strada, a perdita d'occhio, questi devono essere processati subito in piazza, per quello che hanno fatto al nostro popolo, un processo sommario. Stiamo presidiando l'ospedale di Torino in questo momento, siamo circondati dalla polizia, ci sono almeno una trentina di blindati, è impressionante il dislocamento, però ormai hanno perso, perderanno, ormai hanno perso.